buongiorno a tutti e preghiamo insieme con il salmo 86 la supplica nel giorno dell'angoscia signore tendi l'orecchio rispondimi perché io sono povero e misero colui che prega è debole colui che prega è afflitto colui che prega è bisognoso di aiuto e l'orante si affida al signore anche perché lui ha tanti nemici arroganti e lontani da dio che lo ostacolano nella vita eppure di fronte alle tante avversità della vita il signore apre il suo cuore il salmista apre il suo cuore alla lode e dice se il signore mi ha usato misericordia già nel passato e lo continuerà a fare e vorrà ancora che io possa magnificarlo davanti a tutti i popoli per questo il salmista dice ma tu signore dio misericordioso e pietoso lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà dammi un segno di bontà una buona giornata e una buona preghiera con il salmo 86